Per giocare uno smash vincente prima della velocità ci vuole precisione perché se arrivi sotto la palla come un missile per tirar forte il rischio è quello di tirare la palla a rete. Quindi quando ti arriva la palla mettiti di lato e scegli dove tirarla sul dritto o sul rovescio dell'avversario, poi avvicinati e spostati mettendoti di lato a seconda di dove vuoi tirare la palla. Non rimanere frontale così altrimenti la sbaglierai e se vuoi dei consigli personalizzati per migliorare il tuo gioco posso aiutarti con la video analisi a distanza. Nel link qui in alto a destra ci sono tutte le informazioni.